Saranno celebrati domani alle 15 nella cattedrale di San Bartolomeo in piazza Risorgimento ad Avezzano i funerali di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, i quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino lo scorso 24 gennaio. L'ultimo corpo a essere recuperato dall'infaticabile macchina dei soccorsi è stato quello del 26enne Gianmarco Degni, restituito al dolore di parenti e amici e di un'intera collettività ancora in credula per quanto accaduto. Due giorni di lutto cittadino, oggi e domani, sono stati proclamati dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, per ricordare i quattro amici, uniti dalla passione per la montagna e in segno di vicinanza ai familiari delle vittime di questa tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i quattro escursionisti potrebbero essere morti sul colpo, travolti da una gigantesca valanga che non ha lasciato scampo a nessuno la mattina di domenica 24 gennaio nell'area di Valle Maielama. Le ricerche, iniziate già dal primo pomeriggio di domenica, sono andate avanti per 28 giorni con uomini e donne del soccorso alpino, carabinieri, guardia di finanza, polizia, vigili del fuoco, protezione civile e alpini del nono reggimento dell'Aquila, anche con l'impiego di mezzi altamente tecnologici. La prima a essere ritrovata è stata la 25enne Valeria Mella, poi il 33enne Gian Mauro Frabotta e il 60enne Tonino Durante. Infine, nella tarda mattinata di ieri, il 26enne Gian Marco Degni. Nella cattedrale di Avezzano, in piazza Risorgimento, è stata allestita la camera ardente che resta aperta oggi dalle 15 alle 20 e domani dalle 7 alle 13 per un ultimo saluto a Valeria, Gian Marco e Gian Mauro. All'obitorio dell'ospedale di Avezzano è stata invece allestita la camera ardente di Tonino Durante. Domani pomeriggio i funerali dei quattro escursionisti saranno celebrati dal Vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, alle 15 nella cattedrale di San Bartolomeo, nel rispetto della normativa anti-Covid.